Lunedì 14 ottobre 2019, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Municipio X, l'approfondimento di Milano News dedicato alle realtà di Milano e dintorni. Io sono Andrea Baldeschi e questa sera è qui con me Angelo Basile, buonasera. Buonasera Andrea, grazie a te e a tutta la redazione di Milano News per avermi invitato, sono qua più che volentieri. Grazie a te, grazie a te per essere qui con noi, già faccio fatica perché scrittore, infermiere, marinaio, papà, marito, come ti devo annunciare? Come Angelo, va benissimo, che racchiude tutto. Ecco ti faccio subito una prima domanda, tra tutte queste cose che ti ho appena chiesto, qual è quella che ti piace di più? Quella che amo di più è il marinaio da Diporto, che è una mia passione, che attualmente non sto più purtroppo esercitando, però diciamo che sono in attesa di poter riprendere il mare. In seconda battuta sicuramente come passione viene la scrittura e il mio lavoro da infermiere è quello che faccio da quasi tutta una vita, per cui non posso che esserne legato. Ecco, una cosa che leggendo un po' la tua biografia, fa un po' strano vedere un infermiere che scrive dei libri che non sono dei libri tecnici ovviamente, ma sono dei racconti. Sì, allora diciamo che in alcuni racconti, non in tutti ovviamente, però in alcuni pesco a piene mani da questa mia professione, quindi riesco a mettere in questi racconti delle cose che prendo dalla mia professione. In Plenilunium, che è il romanzo di cui parleremo questa sera, c'è una parte sicuramente relativa alla mia professione, tant'è vero che la protagonista principale di questo romanzo, che si chiama Esther, non a caso è un'infermiera. È un'infermiera ovviamente frutto della mia immaginazione, è un personaggio letterario che però racchiude in sé tutti gli elementi delle tantissime colleghe che ho conosciuto durante la mia vita professionale e non solo, ovviamente è lo stereotipo di una mia donna ideale, una mia immagine femminile abbastanza ideale. Come dicevi tu prima, ovviamente siamo qui per parlare di un tuo, del tuo unico romanzo fino adesso, come mi hai detto prima, fuori onda, hai scritto un sacco di racconti, hai vinto dei premi, insomma siamo qui davanti a uno scrittore tutto tondo, diciamo che non è la tua prima esperienza. No, 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 ti ringrazio. Ma no, no, anzi ho visto premio letterario internazionale Le Fenici per la cattiveria dei granchi, ecco com'è ricevere un premio come scrittore? Guarda, nel mio caso è stato innanzitutto un aspettato, emozionante e poi da lì è nato tutto, nel senso che questo premio è arrivato nel 2016, io ho sempre scritto, come ho scritto però nella dedica appunto alla cattiveria dei granchi, che è stato poi il primo libro che ho pubblicato, devo tutto comunque a mia moglie, non solo per quanto riguarda l'ambito letterario, perché è stata lei poi a spronarmi, a convincermi a mandare quello che scrivevo a partecipare insomma ai concorsi o a inviarli alle case editrici. Dietro di grande uomo c'è una grandissima donna. Devo dire che appunto la cosa è stata per me inaspettata, però a cascata dopo questa prima esperienza sono arrivati altri premi, altri riconoscimenti, per cui vuol dire che insomma il mio lavoro viene apprezzato non solo dai lettori, che secondo me è la cosa più importante, ma anche diciamo tra virgolette dagli addetti ai lavori e questo per me è comunque è un grosso sprone poi per andare avanti. Ecco ti faccio un'ultima domanda un po' più personale, poi parliamo del tuo romanzo che è molto interessante. Come si fa a gestire i tempi? Nel senso comunque fai l'infermiere quindi diciamo che è un lavoro che prende abbastanza tempo per quel che ne so. Assolutamente sì. Allora devi raggiungere un compromesso con i tuoi sensi di colpa, nel senso che comunque devo avere del tempo da dedicare alla mia famiglia, io ho anche due figli, diciamo che il poco tempo libero che ho a disposizione lo dedico in prima battuta a loro, a mia moglie e quindi alla mia famiglia. Io scrivo prevalentemente di notte e quindi... Lavoro di giorno, scrivi di notte e non dormi. Sì, dormo poco per fortuna, anzi a mio avviso la giornata dovrebbe essere più lunga di 24 ore però vabbè detto questo riesco a scrivere di notte poco, infatti ci metto sempre tanto tempo per scrivere per esempio Plenilunium, ha avuto un periodo di gestazione di circa un anno e forse per questo che anche alcuni racconti sono comunque crepuscolari. approfitto di questo piccolo spazio appunto che mi concedi anche per fare un minimo di promozione per dirti che il 31 ottobre è in uscita una prima antologia di racconti che guarda caso si chiama Sette al crepuscolo, la seconda si chiamerà Sette prima dell'alba appunto perché per questa mia particolarità che mi piace diciamo e comunque tra virgolette sono costretto a scrivere di notte, per cui alcuni racconti sicuramente hanno questa quest'ombra un po' crepuscolare che li contraddistingue. È una cosa anche molto romantica, no? Il fatto che io ti immagino lì con la macchina, immagino che avrai un portatile. Ho un pc e un piccolo lumino che illumina la tastiera perché non devo dar fastidio comunque alla famiglia che dorme. Certamente. Ok, parliamo di Plenilunium, un romanzo edito da Oacmond Publishing, non riceveremo neanche questa volta delle lettere minatorie, è uscito il 30 aprile del 2018, giusto? Notte di luna piena, guarda caso. Notte di luna piena. Sì. Ecco, la prima particolarità, noi comunque come Milano News cerchiamo sempre di avere qua degli ospiti che hanno a che fare con il mondo di Milano e della provincia di Milano, città metropolitana. Plenilunium è ambientato a Baggio. Sì. E questa è una cosa particolarissima. Come ti è venuta un'idea del genere? Allora, ci sono diverse spiegazioni. Partiamo da quella che, dunque, Plenilunium ha in sé, si sviluppa su due piani narrativi, uno reale, assolutamente reale, e l'altro irreale. La figura, diciamo, fantasy che ho inserito all'interno di Plenilunium è un lupo mannaro. Quindi, adesso in letteratura il lupo mannaro ha origini antichissime, cioè partiamo dall'antico Egitto. C'è un brano di un certo Gaio Apuleio Arbitro del primo secolo, letteratura romana, che descrive nei minimi dettagli appunto la trasformazione dall'uomo in lupo mannaro. Quindi sono cose veramente antiche. Però, poi per qualche strana ragione, questo filone di narrativa ha avuto, diciamo, il suo apice nella letteratura anglo-americana, da cui poi sono seguiti, cito un libro, giusto per dirne uno, del grandissimo Stephen King, che è Unico Indizio della Luna Piena, poi c'è tutta una serie di filmografia dedicata a questo filone, mi viene in mente un lupo mannaro americano a Londra e tanti altri. E allora mi sono detto, perché non ambientare un romanzo di questo genere, comunque un giallo horror a tratti un po' gotico, nella provincia italiana, dato che io abito a Baggio, conosco bene Baggio e qui subentra il piano narrativo della realtà, l'ho voluto ambientare in un luogo che conosco bene e che a mio avviso per alcuni aspetti si concede proprio a questo genere di narrazione. Un altro motivo è che, diciamo che in plenilunium vado a esplorare il lato, come dire, il lato oscuro dell'essere umano, dell'anima umana, il lato, diciamo, la periferia dell'anima umana e quindi ambientarlo in una periferia invece urbana mi è sembrata una cosa ben fatta. Devo dire che, ripeto, sempre a giudizio dei lettori è riuscita bene, il lettore diciamo che in qualche modo è attratto da questo realismo che c'è in plenilunium perché descrivo alcuni luoghi di Baggio ovviamente realmente esistenti, alcuni personaggi ovviamente sono tutti personaggi letterari, quindi tutto il frutto della mia immaginazione, però sono mutuati dalla realtà, alcuni si sono anche riconosciuti, la cosa gli ha fatto ovviamente piacere, tutti buoni, gli altri sono assolutamente, i cattivi sono tutti inventati, mentre invece i buoni sono mutuati dalla realtà, per cui chi si è riconosciuto in questo romanzo mi ha, come dire, fatto anche i complimenti perché ne è stato felice. E diciamo un attimo ai nostri telespettatori la trama, senza fare spoiler del caso. Sì, allora non spoileriamo troppo perché appunto è un giallo, dunque il personaggio principale come ti dicevo prima è Esther, che è una donna libera, è un'infermiera che lavora all'ospedale San Carlo di Milano, anche quello è un luogo assolutamente reale dove io ho lavorato, a un certo punto Esther incontra nel reparto dove lei lavora, quindi in reanimazione, un personaggio misterioso, misteriosissimo, che è stato vittima di un'aggressione feroce durante una notte di luna piena, che è la notte di luna piena a cavallo tra ottobre e novembre, se non ricordo male, del 2016, cosa che è realmente avvenuta ed è stata la, cioè non l'aggressione ovviamente, la luna piena, ed è stata la più grande luna piena rilevata dagli astrologi in quel momento, tant'è vero che io mi ricordo di essere uscito sul balcone di averla fotografata e siccome era proprio, come dire, in quel momento si è affacciata dalle nubi che la racchiudevano, mi è venuta in mente appunto anche l'idea così del lupo Mannaro. Quindi Esther fa l'incontro di questo personaggio molto particolare, molto carismatico, che è stato, che viene protetto dal Vaticano e questo personaggio poi si rivelerà a essere una sorta di inviato per combattere appunto il male, che in questo caso a Baggio, nel quartiere di Baggio, si è incarnato in questo lupo Mannaro e questo è il piano irreale, fantasy del romanzo. Il male però l'ho incarnato anche invece sul piano letterario reale ed è rappresentato da un personaggio che è un professionista stimato dalla società, in questo caso, sempre per rimanere nel mio ambito professionale, è un medico, il quale però soffre di una patologia che è il narcisismo patologico, ha un rapporto malato con le donne, non solo con le donne, con il resto della società. Diciamo che lui ama esclusivamente se stesso ed è incapace di amare altri. Ha una relazione questo personaggio con Esther, la quale Esther a un certo punto la vuole interrompere e quindi poi c'è tutta un escalation che parte dallo stalker fino all'aggressione fisica e poi vedremo come andrà a finire. E quindi ho voluto toccare anche un argomento che a me sta a cuore, che è quello della violenza sulle donne. Sta a cuore perché purtroppo ho conosciuto donne che l'hanno subita e la cosa che mi ha sempre colpito è che questo germe di violenza appunto si annida in personaggi quasi sempre insospettabili, quindi in questo caso appunto un professionista stimatissimo che non è diciamo dissimile dalla realtà delle cronache che purtroppo siamo abituati a sentire e a vedere tutti i giorni. Poi ovviamente entra in scena anche per continuare la trama questo lupo Mannaro che durante le notti di luna piena a Baggio commetterà una serie di delitti efferati, violenti da lupo Mannaro insomma. E quindi poi ci sarà tutta l'indagine. Diciamo che fino alle ultime righe spero di essere riuscito a non, come dire, a celare la vera identità poi di questo lupo. Perché poi nel romanzo si intersecano anche le vite di tantissimi altri personaggi che sono gli abitanti di Baggio. Quindi è un romanzo anche corale se vogliamo, cioè è abitato veramente da tantissimi personaggi. Mi faceva strano mentre raccontavi dire per le strade di Baggio, per le piazze di Baggio, ma che poi in realtà così strano non è. Perché se penso a tutti i romanzi che vengono scritti e che vengono ambientati magari nei subborghi di New York mi viene in mente. Non è che ci diciamo oh cavolo è stato ambientato lì. Invece per certe zone, ma anche se fosse stato ambientato a Milano probabilmente sarebbe stato un po' strano. Ecco, tu hai trovato delle difficoltà a pubblicare questo romanzo? C'è qualcuno che ti ha detto ma non potevi magari non, come posso dire, farlo un po' più fuori dalla realtà, ecco, essendo un romanzo molto, cioè basato comunque su uno scontro tra Lupo Mannaro e... Allora, ripeto, questo romanzo ha avuto una gestazione molto lunga. In fase di revisione delle bozze con la casa editrice, anche lì c'è stato qualche aggiustamento, magari non esattamente per i motivi che citavi tu, però dato che la mia editora ad esempio è una storica. Ok. Alcuni ritocchi ci sono delle citazioni storiche, il romanzo parte, diciamo, l'incipit del romanzo addirittura è nel 30 avanti Cristo ed è in Transgiordania. Però ecco, per quella parte lì alcuni ritocchi la mia editora ha voluto giustamente farli, perché insomma è di sua competenza. Tutti i rimandi storici sono stati assolutamente studiati, questo proprio per dare al lettore proprio un'impressione di realtà, perché quello che volevo era riuscire a coinvolgere il lettore in una situazione irreale, però dargli quell'attimo di magia, sai quando leggi un romanzo e ti sembra vero, ti sembra che possa essere vero e poi però dici, ma no, cioè non è possibile, c'è un Lupo Mannaro, non può essere vero, però se riesco, se sono riuscito a dare quell'attimo di illusione vuol dire che insomma il romanzo è stato efficace. Sì, e poi guardando le valutazioni che comunque ha avuto questo romanzo direi che ce l'hai fatta, senza troppi giri di parole. Invece i progetti futuri? Allora, i progetti futuri, come ti dicevo, il 31 ottobre uscirà sempre per Lockman Publishing, questa raccolta, 7 al crepuscolo, sono 7 racconti ovviamente, 7 perché come sai 7 è un numero che ha svariate simbologie, nelle religioni, in tutte le religioni monoteiste ha una grossa importanza, nel cristianesimo 7 sono i vizi capitali, però sono anche le virtù, 7 sono i colli su cui è stata fondata Roma, 7 sono i nani di Biancaneve e quindi è un numero veramente molto importante e al crepuscolo per i motivi che ti dicevo prima. Invece nel 2020, aprile 2020, uscirà la seconda raccolta, sempre di racconti, che si chiama 7 prima dell'alba, sempre a cura della Lockman Publishing. È in scrittura un altro romanzo, però ripeto, è una cosa lunga. Molto lunga. Qualche informazioncina su questo romanzo, qualche cosa che ci puoi dire? Allora, questo romanzo nasce da un racconto che sarà pubblicato sulla seconda antologia e è figlio di questo racconto, più di questo al momento. Non si può dire. Prima, tra l'altro, abbiamo parlato anche di un argomento importante, come quello sulla violenza sulle donne. Il libro veicola anche un po' questa cosa, questo problema che a volte sembra davvero surreale, vivendo in una società nel 2020 ormai. Allora, in parte credo di sì. Ripeto, avendo la necessità di incarnare il male in questo romanzo, l'ho fatto tramite un personaggio irreale, che è quello del Lupo Mannaro, che paradossalmente però per il lettore diventa, dà la possibilità al lettore di esorcizzarlo in maniera più semplice, piuttosto che nel personaggio invece reale, che è questo appunto professionista stimato. Quindi, sicuramente sì, veicola in qualche modo quello che è la mia idea della violenza sulle donne. Ti dicevo prima che Esther è nel mio immaginario un personaggio stereotipato, cioè quello che, adesso se fosse un romanzo dell'Ottocento potremmo dire la mia eroina femminile, e che quindi, essendo una donna libera, fa più paura, perché sono poi le donne più libere che fanno paura a questo genere di personaggi, e che però reagisce in maniera, diciamo, decisa a questo tipo di aggressione, a questo tipo di violenza. Ed è quello che mi auguro possa capitare a tutte le donne che purtroppo sono vittime di questo male, sempre, diciamo, partendo dal presupposto che la cosa che mi auguro è che questo male sparisca dalla nostra società, perché è una cosa veramente inaccettabile. Va bene, Angelo, io direi che la nostra intervista può finire qui. Grazie, grazie mille. Perché è sempre bello vedere che si ritorna un po' anche alla letteratura, al libro scritto. Tu leggi tanto, immagino, vero? Guarda, la prima regola dello scrittore è leggere, perché altrimenti non puoi scrivere. Devi leggere tanto per riuscire a scrivere bene. Io vorrei far vedere, tra l'altro la regia mi sta minacciando, vorrei far vedere il libro. Sì, grazie. Lo prendo su, mi dica la regia come dobbiamo... Ok, su, perfetto, giù. Noi abbiamo una tecnologia avanzatissima. È il bello della diretta. La mia mano e i segni del nostro regista. Questo è il libro, lo potete trovare in tutte le librerie. Allora, in realtà è ordinabile tramite Amazon e nella libreria di Baggio, che è la linea di confine, che è un posto che comunque in ogni caso consiglio di visitare, perché è un luogo magico. È presente, per esempio, nella libreria Il Covo della Ladra, che è in zona Viale Padova, però comunque è trovabile, diciamo, su Amazon tranquillamente. Va benissimo. Grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie a te, Andre. È stato un piacere. Ci rincontreremo sicuramente. Lo spero. Ti ricontatteremo ancora. Io ringrazio anche tutti i nostri telespettatori per essere stati qui con noi. Vi ricordo che la nostra programmazione prosegue domani mattina con Good Morning Milano e poi con tutta la nostra programmazione che potete seguire sempre sul nostro social di Facebook. Grazie mille e buona serata. Grazie mille. Grazie.